Qui siamo nel vulcano di Gambellara, è un vulcano spento, una bocca secondaria di un vulcano. Il vulcano principale era nel Monte Calverina, a circa 15 km da Gambellara. Ha dato origine a queste rocce pentagonali, esagonali, queste colonne laviche di basalto, che è tipico appunto di tutto il territorio di Gambellara. Poi trasferiscono al vino, durante le varie lavorazioni, questo sale, questa sapidità tipica appunto del vino di Gambellara.